Alta, bionda, bella, magra, insomma questa ragazza le ha tutte per essere aiutata da qualche moschione ai tante. Eccolo qua, le prende le chiavi dentro la gonna e voilà! Aiuto, le je son fait! Traduco per Ciccio che non ha fatto latino. È fatta! Cade la gonna e le vittime non ci capiscono più niente. Forza, 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 dai, bravo, dalle una mano! Ecco, arriva, meno male la signora, solidarietà femminile, vedete? Intanto la dietro il fidanzato impazzisce perché vorrebbe guardare dritto ma se lo fa viene fulminato. Ecco, e ora il signore, attento perché a quell'età tutto può succedere! Opla, ecco qui! Devo dire che l'attrice ha anche un ottimo panettone da esporre, se ne accorgono anche le nostre vittime. Attenzione, guardate questo. Oh mamma, adesso si mette più angiore, no! Ecco, adesso, guardate questo, sto cercando di incastrare la gonna in qualche modo, vedete? Eh sì, dai, dai, dai che siete fortunati! Forza sotto un altro, ma dai, su, con quella forza brutta! Lei ce la può fare, forza! Dacci una mossa, ok, pre... No, la gonna! Questo non dormirà per un paio di nostri almeno, eh? Sì, sì, e guardate questo. Ai ai ai, ride! Beh, meno male che ci sono galantuomini, eh! No, e questo qui al telefono? Questo scappa, dove vai vigliacco? Meno male che ci sono i galantuomini di una volta! Fortunello, sei su Candid Camera! Poi!